La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati, eccoci alla nostra rassegna stampa, partiamo con il mattino. In apertura la cronaca, la strage dell'indifferenza, Ardea uccide due fratellini e un 74enne che aveva tentato di proteggerli, poi si toglie la vita. Un TSO nel passato del killer deteneva la pistola del padre vigilante e nessuno era intervenuto. La testimonianza minacciò i vicini con spari in aria, ci furono denunce. Di lato a Salerno, troppe assenze, causa pandemia, 340 studenti, ripetono l'anno. Andiamo sul centro pagina, vaccini, strappo di De Luca, non faremo il mix di dosi a Strazeneca solo per i richiami, poi in campagna sarà vietato. Il G7, la ripartenza a Ste Draghi Biden, l'Unione Europea, non siamo un club anticina. E poi di taglio basso, Salernitana, trattativa nel vivo, lo tito chiude per 60 milioni. Questa era la prima pagina del mattino. In primo piano la lotta al Covid e qui in Campania vaccini, l'ira di De Luca, stop a Mix e a Strazeneca all'affondo. Contro il governo, è l'ora della chiarezza, ci dicano se il farmaco è consentito oppure vietato. Draghi, avanti senza incertezze in caso di varianti, nuove chiusure. Speranza, le regioni siano allineate. Il piano vaccinale rallenta ancora tra le polemiche sulla somministrazione del vaccino a Strazeneca, nonostante le rassicurazioni del ministro Speranza e del premier Draghi dalla Cornovaglia. In particolare, il Ministero della Salute, su parere degli esperti, precisa che la seconda dose di vaccino diverso rispetto a quello utilizzato per la prima somministrazione. Sicure ci sono studi che dimostrano come possa essere una risposta immunitaria anche migliore. Tutto chiarito, andiamo avanti. In cita invece il premier Draghi dal G7 in Cornovaglia. È un modo per chiudere con l'incertezza e mettere in riga le regioni che da qualche giorno si sono trovate disorientate. Tutto risolto, ma che il governatore della Campania, determinato come al solito, stoppa il mix di vaccini e scatena un fronte di polemiche iniziato già da qualche giorno. Non solo perché la Campania non somministrerà più vaccini a vettore birale, dunque stop ad AstraZeneca e Johnson & Johnson neanche a chi più di 60 anni. E andiamo avanti, sempre sul mattino. Andiamo a vedere il vertice dei grandi, G7. L'Europa frena Biden, non è un club anticina. Il monito però resta. Pechino rispetti i diritti umani e le libertà fondamentali. Punti fermi. La pandemia, il clima e il rilancio di un'economia più equa. Porre fine alla pandemia, definire un piano d'azione contro nuovi virus per scongiurarne un'altra nel futuro. Rilanciare un'economia più equa, combattere il cambiamento climatico. Questi i grandi temi del G7 proposti da Boris Johnson, sui quali però se ne è imposto un altro, su invito del presidente americano Joe Biden, limitare l'influenza della Cina. Un obiettivo che ha trovato tutti d'accordo, seppur con diverse sfumature. Il G7 non è un club anticina, ha infatti sottolineato il presidente francese Macron nel mettere in risalto l'importanza di continuare a collaborare con Pechino sui temi in cui è possibile farlo, come il clima, pur dissentendo su temi etici come diritti umani e lavori forzati. Andiamo avanti, ma rimaniamo su questo tema. Draghi si smarca da Conte, rivedere la via della seta. Il premier con Pechino e le autocrazie, cooperazione e franchezza senza sconti. Mano tesa a Erdogan, Turchia partner affidabile, oggi l'incontro Alberti Senato. Poiché l'ha appena concluso il G7, va letto all'insegna del realismo, come suggerisce lo stesso Mario Draghi, valori democratici dell'Occidente diventano uno spartiacque sul quale valutare i rapporti in politica estera e magari costruire le alleanze politiche interne anche sulla base del rapporto con i regimi che calpestano i valori liberali e i diritti delle persone. Il capo del governo, soddisfatto per il ritrovato asse con gli Stati Uniti, è stato un vertice nel segno del realismo. Lasciamo con questo il mattino, ci spostiamo sul quotidiano del Sud. Covid in apertura, no secco al mix di vaccini. De Luca non consentirà un miscuglio di sieri, ma solo Pfizer e Moderna. Caso AstraZeneca, la campagna si oppone a Speranza e all'AIFA. Pregliasco, la posizione del governatore crea una disaffezione verso l'immunizzazione. E ancora 37 casi e una vittima in provincia di Salerno. Centropagina, ribellione dei lavoratori fragili, stagionali sfruttati nel salernitano, tanto lavoro nero anche sui Lidi. Di lato a Eboli, devastato all'alba, un negozio pakistano, terrore in centro. Sulla statale 18, giornata nera per gli incidenti, grave, docente universitario. La salernitana, settimana decisiva, vendita di ferita e tifoseria in ansia. Questa era la prima pagina del quotidiano del Sud. Ci spostiamo sulla città. In apertura ai vaccini, è caos totale al bando Astra e Johnson. La regione sfida il governo e blocca i farmaci a vettore virale. Stop anche al MIPS. Centropagina, Vallo della Lucania, il San Luca vede la luce, l'ospedale del caso 1 è diventato covid free. Poi il report, il virus è scomparso nell'ultima settimana, solo 273 nuovi contagi. Di lato, la Movida Salerno, SOS sosta selvaggia, ora ZTL più larga. A rutino, incidente in moto, grave prof dell'Università di Salerno. Eboli, esplosione in piazza, giallo sull'attentato. Poi lo sport. Salernitana, cessione del club, la FIGC apre le porte al presidente Lotito. L'intervista a Grimaudo in Serie A, serve chi ha coraggio. E poi Serie D, Nocerina, play-off, trasferta a Latina. Di taglio basso, Sarno sull'acqua, sprecati dieci anni, i cittadini chiedono all'istituzione il servizio idrico pubblico. Una battaglia senza colori politici, una lotta iniziata 15 anni fa competizioni e che ancora adesso vede non rispettata la volontà popolare che si espresse a favore dell'acqua pubblica al referendum che si svolse dieci anni fa. Si è svolto ieri mattina al Parco Cinque Sensi, presso la foce del fiume Sarno, un incontro promosso dalla rete civica Nogori. E a Cava dei Tirreni, sul sottopasso, chiusura per un mese e disagi. Lasciamo la prima pagina della città, diamo un'occhiata a Cronache. Il titolo di apertura. Sottoprocesso per sette anni perché assenteista, ma l'ASL lo aveva trasferito. Viene assolto la mala giustizia e l'odissea del dottor Vincenzo Coppola. Mi cercavano all'Umberto Prima, dove lavoravo come primario, ma avevo cambiato sede, e mi avevano assegnato all'ASL di Via Memoli. Nessuno lo aveva verificato durante le indagini. Centropagina salernitana. Si parte da un'offerta di 50 milioni di euro. Al momento sarebbe l'unica di una certa consistenza, entro giovedì o dentro o fuori. Di lato al Ruggi, Santoro, le mamme non possono avere contatti con i neonati ricoverati a Latin. e poi l'intervista a Sanseviero della Fena Ilp, linea diretta con Procida e più collegamenti con il Cilento. Centropagina, l'annuncio dell'assessore De Maio, largo plebiscito, potrebbe diventare zona. Una ZTL. Di taglio basso, a Capaccio, usura, chiesto il processo per Marandino e il figlio Emanuel. Poi la polemica, De Luca si oppone al mix di vaccini in Campania e infine l'intervista a Caturano, c'è confusione sulla seconda dose vaccinale. E termina qui la prima parte della nostra rassegna stampa, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. E eccoci tornati in studio, riprendiamo la rassegna stampa con il mattino, la prima pagina del mattino di Salerno. In apertura Covid, immunità più lontana, no al mix di vaccini, 50.000 salernitani under 60 nel limbo, niente seconda dose. Congelate 20.000 fiale di AstraZeneca, l'ASL deve riprogrammare la campagna e aspetta rifornimenti. Lo scontro, inviti per Pfizer per pochi intimi, accuse abbaliante il sindaco di Baronissi, è un polverone. Di lato le amministrative, casciello di Forza Italia, centro-destra unito o sarà un suicidio? Centropagina, la Movida, largo plebiscito, ripolisti dopo l'SOS, sosta fuori legge, blizze dei vigili, multe e rimozioni di auto. La scuola, studenti spariti con la DAD 340, in 340 ripetono l'anno, troppe assenze, sono non scrutinabili, presidi così il Covid colpisce i più fragili. Di lato l'incidente, scontro a rutino tra auto e moto, grave docente dell'università, il giallo, l'esplosione al pub di Eboli, terrore e dubbi, rogo da dentro. Questa era la prima pagina, in primo piano andiamo a parlare di Baccini, vietato il mix, in 50.000 sotto i 60 anni, restano senza la dose bis, congelate 20.000 fiali di AstraZeneca, l'ASL deve riprogrammare la campagna. Ricoverato al Ruggi, un 41enne di Eboli sospetta trombosi dopo il siero Johnson. Poi c'è la polemica, invito privato per Pfizer senza prenotazione, la Lega accusa avvaliante, Baronissi, il sindaco si difende, messaggio girato a tutti i contatti, è un polverone di taglio basso a passeggio alle 4 del mattino e viene multato. Andiamo avanti, rimaniamo ancora sul mattino nel Golfo di Policastro, rumori e vibrazioni dai treni, vanno installate le barriere, la crociata per il Golfo di Policastro partita da un villeggiante di Villa Mare, la regione deve chiedere la priorità per salvare turismo e qualità della vita. Grazie al pressing di Solani i sindaci scoprono che RFI aveva segnalato il caso 20 anni fa, ma lavori mai eseguiti. di taglio basso la cronaca esplosione al pub Kebab di Eboli, terrore e danni in piazza Pezzullo, la pista un piromane all'interno, cade la prima ipotesi di una bomba carta, la deflagrazione di una bombola, GPL, il locale e gli arredi non sono assicurati. Ancora cronaca, scontro tra auto e moto grave docente di Fisciano, il prof. D'Agostino, ricoverato a ruggi in rianimazione, l'impatto a rutino a pochi passi dalla sua casa. Lasciamo il mattino, ci spostiamo sul quotidiano del sud. E qui la cronaca a rutino, l'abbiamo visto, statale 18, giornata di incidenti, travolto docente universitario, tre sinistri, in mattinata, il prof. cade dalla moto e viene investito da un'auto, costola fratturata per il 55enne, trasferito al ruggi in elicottero. Rimaniamo su questa pagina, Rofrano, lavori di manutenzione al campo da tennis, Cilento, Vallodidiano, l'ASL promette nuove ambulanze per l'estate. Un'estate più sicura nel Cilento e Vallodidiano, l'ASL Salerno ha garantito l'acquisto di nuove ambulanze che saranno a servizio del territorio. Una è stata assegnata a Polla, un'altra andrà all'ospedale dell'Immacolata di Sapri, ma non è l'unica novità. L'azienda sanitaria ha infatti varato un piano per l'estate per garantire la sicurezza dell'area tra Positano e Sapri che prevede l'attivazione di ambulanze extra con autista e infermiere nei centri del litorale. A Capaccio Pestum oggi la presentazione del calendario dei rifiuti a San Giovanni Appiro, Casa dell'Acqua, Consac rimborsa la spesa. Palinuro, in Rada la nave scuola della Marina. Palinuro che incanta la località di cui porta il nome, la nave Goletta della Marina Militare e in Rada nei pressi del porto di Palinuro. L'imbarcazione è giunta nella località cilentana proprio nel giorno di Sant'Antonio protettore dei marinai locali. e a Caselle in Pittari 600 vaccini in un giorno. Il sindaco Gian Pieronuzzo si è detto entusiasta per il successo della giornata vaccinale di venerdì nel proprio paese. Spostiamoci su cronache. la commissione aree interne incontra i sindaci necessario includere il cilento a proposito dell'alta velocità Salerno Reggio Calabria il presidente della commissione Michele Camarano ha presentato le istanze al ministero competente tra le richieste avanzate e quella di considerare lo scalo di battipaglia come AB. Andiamo avanti su cronache l'abbiamo visto nella prima parte accusato di truffa ai danni dell'ASL assolto per non aver commesso il fatto il dottore Coppola era stato accusato di non essere presente al lavoro per quattro anni ma in realtà era stato trasferito ad altra sede primario presso l'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore era stato destinato presso la direzione centrale dell'ASL in via Memoli a Salerno la cronaca Capaccio Marrandino e figlio la DDA chiede il processo l'udienza preliminare è stata fissata per il 23 giugno il fatto nel Cilento tassi inferiore alla media provinciale dopo l'allarme sulla diffusione dei tumori il direttore generale dell'ASL e il direttore sanitario tranquillizzano il Codacon sicilento e i cittadini sull'aumento dei casi di tumori nel parco i numeri non destano particolare preoccupazione non quelli del territorio del parco almeno secondo i dati ufficiali dell'azienda sanitaria salernitana di taglio basso polla traffico di rifiuti italiani in Tunisia arriva la risposta della commissione europea ma i container sono ancora assusse la vicenda iniziata nell'autunno di 2019 con la firma di un contratto tra un'azienda con sede a polla e una tunisina e infine la cronaca bandali danneggiano le vetrine della sede della BCC di Aquara e termina qui la nostra rassegna stampa grazie per l'attenzione vi auguro buona giornata